signori buongiorno e bentornati sul canale del master cae io sono il master cae il vostro ospite su questo canale due settimane fa abbiamo visto quali sono quei png che potrebbero far parte della fazione dei giocatori o comunque essere loro alleati e dargli una mano nelle loro imprese ma una storia non sarebbe interessante se non ci fossero degli antagonisti a mettere i bastoni tra le ruote e far saltare i piani dei personaggi giocanti il video di questa settimana sarà quindi proprio dedicata agli antagonisti del party e ai principali archetipi a cui questi fanno riferimento video particolarmente lungo perché pieno di contenuti quindi non perdiamo altro tempo e passiamo subito a vedere quali sono gli archetipi degli antagonisti prima di iniziare devo fare una doverosa premessa anche solo fare una trattazione generale di quali sono tutti i principali archetipi di un antagonista sarebbe un lavoro assolutamente immenso perché oltre a esisterne letteralmente centinaia molti di questi dipendono anche da qual è l'immaginario di riferimento dell'opera di cui fanno parte che nel nostro caso il gioco di ruolo e qual è il genere a cui la quest che state portando al tavolo fa riferimento in una campagna epic fantasy o western alla john ford dove c'è una distinzione manichea tra il bene e il male sicuramente i possibili antagonisti sono molto diversi da quelli che potrebbero comparire in una quest noir o un cyberpunk dove in realtà i toni sono molto più sfumati molto spesso i personaggi sono dotati di una modalità grigia per cui virtualmente chiunque potrebbe contrapporsi a loro anche per motivi assolutamente non ideologici ma semplicemente situazionali o economici in questo video quindi più di cercare di fare un lunghissimo elenco di quelli che potrebbero essere i cattivi della vostra storia vi presenterò alcuni archetipi per gli antagonisti ricorrenti dividendoli in base alla funzione che avranno nella storia da questo potrete poi capire voi da soli che cosa serve per la vostra quest in particolare cominciamo con l'archetipo più noto e diffuso che quasi sicuramente in un modo o nell'altro avete inserito anche all'interno della vostra campagna il signore del male è il capo dell'organizzazione malvagia ed è il mastermind che sta dietro a tutti gli altri nemici o almeno la maggior parte di essi che i personaggi dovranno affrontare sconfiggere nel corso della campagna il cliché vuole che il signore del male stia cercando di conquistare il mondo ma in realtà quale sia l'obiettivo e il modo di perseguirlo da parte del signore del male dovrebbe basarsi su quali sono i temi e gli altri aspetti del party e degli avventurieri per diventarne un riflesso oscuro se gli eroi combattono per la libertà lui vorrà imporre la tirannia se loro combattono per portare la pace lui cercherà di scatenare la guerra se gli eroi usano il potere dell'amicizia lui userà il potere di un'incredibile quantità di violenza in quest'ultimo caso probabilmente vincendo alla fine ma questo è un altro discorso per quanto in un gioco basato sul combattimento come dnd il signore del male potrebbe essere anche un micidiale avversario da affrontare direttamente le sue abilità normalmente riguardano principalmente la logistica l'organizzazione e la direzione dell'organizzazione malvagia più che il confrontarsi direttamente con gli eroi anzi quasi sempre il signore del male è una figura lontana e distaccata perché ha semplicemente cose più importanti e più urgenti da fare che ad andare a combattere con spada e scudo contro gli eroi del bene che vogliono fermarlo ed è proprio per questo che ha un'organizzazione malvagia con vari livelli di minion abbiamo già vista in un video qualche settimana fa se volete andarlo a recuperare e quindi sfrutterà i suoi minion per cercare di sconfiggere o almeno contenere gli eroi mentre lui è impegnato a testere le sue trame malvagie per ottenere i suoi obiettivi a fare da controaltare al signore del male o antagonista principale c'è l'archetipo del suo aiutante se volete essere tecnici il deuterantagonista più semplicemente viene chiamato il drago il drago normalmente prende la forma del guardia spalle del signore del male del suo generale in linea di massima del capo diretto di tutti i minion dell'organizzazione malvagia e al contrario del signore del male che è una figura distaccata analitica e manipolatrice normalmente il drago è il braccio che mette in atto i piani malvagi e quello che personalmente andrà a cercare di sconfiggere i giocatori normalmente questa contrapposizione viene resa anche caratterialmente tra i due png uno sarà l'opposto dell'altro se uno è un intellettuale molto raffinato l'altro sarà brutale violento se uno utilizza tattiche subdole manipolatorie l'altro sarà estremamente diretto e probabilmente anche onorevole in combattimento i due avranno set di abilità personali che vanno a compensarsi a vicenda quello che non sa fare uno probabilmente lo sa fare l'altro questo da una parte gli potrebbe rendere un avversario formidabile se incontrati assieme e rendono così pericolosa l'organizzazione malvagia appunto perché i due lavorano di concerto ma potrebbe essere anche la base per un possibile contrasto interno tra i due all'interno della loro stessa organizzazione normalmente quando il rapporto tra il signore del male e il drago è votato proprio alla totale contrapposizione tra i due col drago che cerca costantemente di sopraffare il signore del male l'archetipo prende il nome di starscream è comunque possibile che in realtà i due siano in realtà alleati e molto leali tra di loro e ci sono vari casi in cui il signore del male e il suo drago hanno un vero e proprio rapporto di coppia incarnando uno l'interesse romantico dell'altro se l'antagonista principale e il suo deuter antagonista agiscono ai livelli più alti e appaieranno probabilmente nel terzo atto comunque nel finale dell'arco di quest come cattivi finali o qualcosa del genere sicuramente prima di arrivare a loro ci saranno degli avversari ricorrenti molto più alla portata dei giocatori e per questi sarà importante stabilire delle relazioni tra loro e il party dei personaggi proprio per rendere più personale il tipo di scontro che contrapporrà le due fazioni ai due lati opposti della scala del rancore personale degli antagonisti nei confronti del party ci sono da una parte la nemesi e dall'altra il professionista la nemesi è specificatamente un nemico del party potrebbe far parte dell'organizzazione malvagia più grande potrebbe agire in solitario ma la sua motivazione principale e che lui vede il party dei giocatori come nemici personali ed è intenzionato a danneggiarlo il più possibile a differenza del signore del male la contrapposizione tra nemesi e personaggi giocanti non necessariamente riguarda i temi della campagna potrebbe anche farlo ma sarebbe qualcosa di incidentale la nemesi ce l'ha con i personaggi perché questi hanno fatto detto o agito in qualche modo che la nemesi considera essere stato un danno o un affronto personale per se stessa in pratica quello che la nemesi vuole dal party è una vendetta in che modo prenderà forma la vendetta della nemesi in campagna dipende principalmente da che tipo di personaggio è la nemesi potrebbe essere un brutto che cercherà di correre contro i pg e cercare di picchiarli e poi in mente finirà ammazzato la prima volta che lo incontrano potrebbe essere un personaggio molto più sudolo e calcolatore impegnato a tessere trame da dietro file di minion e diventare un antagonista ricorrente ogni volta impiegato or dire qualche piano maldavaggio ai danni dei personaggi giocanti il suo odio per i personaggi potrebbe portarlo anche ad allearsi con l'organizzazione antagonista se non ne faceva parte ma potrebbe anche succedere al contrario cioè che lui faccia parte inizialmente dell'organizzazione antagonista e poi ne venga buttato fuori quando per gli altri suoi alleati malvagi risulti evidente che la sete di vendetta di questo personaggio alla lunga non faccia altro che danneggiare l'organizzazione per quanto la nemesi abbia un rapporto estremamente conflittuale con il party non necessariamente la sua vendetta debba sembra essere qualcosa di violento o causare del danno fisico materiale per i personaggi una nemesi potrebbe anche avere un odio per il party legato ad altri motivi e mettiamola così una nemesi non necessariamente deve essere una cattiva persona potrebbe essere semplicemente qualcuno che si è ritenuto insultato dal party il ricco il nobile che vuole far vedere a questi poveracci chi è che comanda e quindi sia più interessato a far fare una brutta figura ai personaggi o a fargli un danno economico e magari dopo che avrà fatto in modo che tutta la corte del re rida dei personaggi riterrà la sua vendetta soddisfatta perché ha adesso hanno visto cosa vuol dire far far brutta figura agli altri potrebbe anche essere un rapporto conflittuale ma vedere il party non tanto quanto dei nemici ma piuttosto come degli avversari la nemesi del gruppo dei personaggi giocanti potrebbe essere un altro gruppo di avventurieri simili che agisce nella stessa zona o comunque nella stessa area di interesse di quello dei giocatori e che periodicamente ritorna in quest per andare a vantarsi con i personaggi giocanti di quanto loro siano i veri avventurieri le loro imprese siano le più gloriose i loro tesori quelli più ricchi il loro rapporto di nemesi potrebbe appunto basarsi su questa competizione amichevole per quanto la nemesi cerchi di vincere probabilmente anche in maniera scorretta all'estremo posto della nemesi c'è il professionista il professionista non considera affatto il party un nemico personale anzi il professionista non ha e non vuole avere nessun tipo di rapporto con il party ma il party è per qualche motivo una minaccia per lui e i suoi interessi e ha intenzione di liberarsene il più velocemente efficacemente possibile anche in questo caso il professionista potrebbe essere parte della grande organizzazione malvagia e magari essere un sicario letteralmente un qualche professionista mandato per liberarsi del party che sta in qualche modo dando fastidio all'organizzazione e quindi vedere il suo contrapporsi al party come un puro incarico di lavoro o potrebbe anche essere un esterno che le azioni del party hanno danneggiato o che pensa le azioni del party possano danneggiare i suoi interessi e quindi vuole agire preventivamente per risolvere il problema prima che si ponga rispetto alla nemesi il professionista ha più possibilità di diventare un avversario ricorrente semplicemente perché non avendo nessun tipo di odio personale per il party molto spesso rischierà molto meno per danneggiarlo semplicemente mettendo il suo interesse personale davanti al danneggiare i giocatori una nemesi potrebbe anche agire in maniera avventata o rischiare anche di rimanerci pur di falder male ai suoi nemici il professionista no se le cose si stanno mettendo male per lui semplicemente cercherà di andarsene ovviamente non vuol dire che ce la faccia sempre potrebbe comunque sbagliare finirci ammazzato questo dipenderà molto dalle azioni del party probabilmente il professionista è anche un nemico che più facilmente di altri il party potrà sconfiggere a parole o comunque semplicemente confrontandosi con lui dopo tutto dato che lui non ha un interesse personale nel party se i giocatori riuscissero a convincerlo che stare dalla parte del party sarebbe per lui più conveniente o comunque che rischia di più a mettersi contro al party che semplicemente a lasciarlo stare probabilmente la nemesi lascerà stare e possibilmente la nemesi potrebbe anche magari entrare al servizio del party o comunque diventare un qualche loro alleato se gli dimostrano che effettivamente schierarsi con loro è meglio per lui in questo caso ci rifacciamo a quello che abbiamo visto nel video i due settimane fa all'archetipo del vegeta al contrario la nemesi potrebbe semplicemente sparire e nascondersi più lontano possibile dal party non facendosi mai più vedere in quest abbiamo presentato due archetipi sulla funzione che l'antagonista avrà all'interno della campagna e due archetipi su quale sarà il rapporto tra il party dei personaggi giocanti e l'antagonista non abbiamo ancora parlato però del rapporto che ci sarà tra i giocatori e i personaggi non giocanti degli antagonisti non dimenticatevi che gli antagonisti non sono lì solo per la mera funzione di meccanica di dare ai personaggi qualcuno contro cui scontrarsi ma sono lì per rendere interessante la storia quindi in realtà la percezione che i giocatori avranno degli antagonisti delle loro quest sarà molto più importante della funzione degli antagonisti stessi all'interno delle quest quindi per quanto sicuramente i personaggi giocanti non vedranno di buon occhio il loro antagonista quale sarà il rapporto che i giocatori avranno con lui probabilmente il nemico più detestato in assoluto dai giocatori sarà il traditore ovvero quel png che inizialmente è stato presentato come un amico e un alleato per il party ma che poi nel corso della storia si è rivelato essere un antagonista che ha cercato di imbrogliarli in realtà ci sono un sacco di possibili archetipi interni allo stesso traditore dalla classica spia che fin dall'inizio era lì per ingannare i personaggi e guadagnarsi la loro fiducia in malafede al personaggio che inizialmente era effettivamente un alleato del party ma che poi è stato sedotto dal lato oscuro è stato convinto a passare dalla parte del signore del male sia per motivi interni al personaggio ma potenzialmente anche per le azioni che i personaggi giocanti hanno avuto durante la quest magari proprio nei suoi confronti quello che accomuna tutti gli archetipi del traditore e che in qualche modo avranno usato la fiducia che si sono guadagnati con i personaggi giocanti e di conseguenza con i loro giocatori contro di loro danneggiando in qualche modo il party e guadagnandosi l'ira dei giocatori che adesso probabilmente saranno molto più interessati a fargliela pagare al traditore che a sconfiggere il vero e proprio antagonista nella storia in pratica dal punto di vista dei giocatori loro sono i professionisti del signore del male ma sono la nemesi del traditore uno dei sotto archetipi principali di questa categoria che probabilmente è il png più detestabile in assoluto è quello del mentore traditore cioè il personaggio che non solo inizialmente era amichevole nei confronti del party ma era un grande alleato che ha probabilmente affidato missioni ai giocatori e che poi i giocatori hanno scoperto che quello che ha fatto fare ai loro personaggi in realtà andava a favorire i nemici e non i loro interessi se state cercando un png che i vostri giocatori sicuramente detesteranno più di qualsiasi altra cosa quest'ultimo è proprio l'archetipo che dovete utilizzare ora sicuramente i personaggi giocanti non avranno un buono rapporto con i loro antagonisti non necessariamente li detesteranno ma sicuramente non saranno favorevoli a loro capirata però che qualcuno di questi antagonisti per le sue motivazioni personali per il modo in cui il master lo ha presentato lo ha caratterizzato in campagna o anche solo per gli eventi che si svolgono intorno a lui susciti l'interesse dei giocatori e a un certo punto comincino quasi a tifare per lui contro l'interesse dei loro stessi personaggi in questo caso abbiamo l'archetipo del magnifico bastardo il magnifico bastardo resta sempre un antagonista dei personaggi ed è inquadrato in maniera negativa all'interno della storia ma il master lo ha caratterizzato in un modo tale che i giocatori ogni volta che entra in scena sono effettivamente interessati a sapere come sta andando avanti la sua storia e quale sarà il prossimo piano malvagio che ordirà semplicemente perché quel png è troppo interessante o troppo divertente per poter essere semplicemente ignorato dai giocatori in molti casi il magnifico bastardo per quanto sia un antagonista non fa parte della grande organizzazione malvagia e più che altro un antagonista indipendente che sta perseguendo un suo obiettivo può anche capitare che per via degli eventi di quest gli obiettivi del parti dei giocatori e del magnifico bastardo si allineino e che quindi a un certo punto almeno per un arco per una quest loro e il magnifico bastardo potrebbero diventare alleati nonostante probabilmente abbiano ideologie e metodi del tutto diversi in questo caso specifico sia il troppo del nekkama o se volete il magnifico bastardo prende il nome di vegeta a volte il magnifico bastardo attira l'amore dei giocatori per il suo tragico retroscena o perché i modi che utilizza per quanto siano sbagliati e portino a dei fini che non sono corretti per quella che l'ideologia i personaggi giocanti vengono comunque ritenuti onorevoli o al contrario a volte un personaggio talmente squinternato e male in arnese che i giocatori più che percepirlo come una minaccia per loro lo percepiscono come una sorta di interludio comico a loro impresa e il suo arrivo vuol dire che sta per arrivare qualche piano assolutamente squinternato che farà morire da ridere i giocatori per quanto possa essere anche solo vagamente un inconveniente per i loro personaggi diciamo che questo archetipo è quello che vi conviene utilizzare quando volete che un antagonista sopravviva il più a lungo possibile perché fin tanto che sarà una fonte di reale intrattenimento per i giocatori questi difficilmente saranno propensi ad ammazzarlo nella maniera più diretta possibile e anzi magari cercheranno di allearselo fin tanto che questo sia ragionevole sappiate però che cercare di forzare il magnifico bastardo difficilmente riesce voi potete cercare di rendere interessante un png ma alla fine saranno i giocatori a decidere se quello è un magnifico bastardo o un bastardo molto più semplice e quindi ammazzarlo video decisamente lungo e in realtà non abbiamo neanche grattato la superficie ma con questi sei esempi probabilmente abbiamo coperto le basi più grandi e da questi potete cominciare a lavorare per creare poi i png antagonisti per la vostra campagna o per la vostra quest quindi diciamo che per questa settimana possiamo anche chiuderla qui adesso come sempre la parola sta a voi scrivetemi qui sotto nei commenti quali sono stati i tipi di avversari che sono stati più memorabili per il vostro party in modo che le idee possano essere utilizzate anche da altri che magari sono venuti su questo video in cerca di ispirazione sì il 90 per cento del lavoro del master è rubare le idee agli altri come sempre se avete domande dubbi o perplessità scrivete anche quelle nei commenti qui sotto se il video vi è piaciuto lasciate un like e condividetelo che dovete accrescere il canale iscrivetevi e schiacciate la campanella se volete ricevere le notifiche se le notifiche non vi arrivano comunque in descrizione trovate i link ai server di discord e al gruppo i telegram dove si riunisce anche la community del master cae e metto io i link ai video normalmente se volete contribuire al canale sempre in descrizione trovate il link al print on demand di amazon del mio libro il cui ricavato viene dedicato a migliorare l'attrezzatura come sempre io sono il master cae e noi ci vediamo al prossimo video